Le notizie di Senigallia Web TV mercoledì 16 dicembre, ben trovati. Si finge amico del figlio e si fa consegnare da una pensionata 500 euro in contanti, purtroppo un classico delle truffe agli anziani, quello di ieri mattina a Marina di Montemarciano. La vittima è una 76enne che era uscita di casa per andare in chiesa alla messa, terminata la funzione uscita ed è stata raggiunta in via Roma da un uomo che, figgendosi amico del figlio che risiede in Liguria, ha riferito alla donna di vantare un credito di 500 euro per l'acquisto di un computer, che il figlio aveva a suo dire acquistato senza però pagarlo. Una volta in casa ha consegnato i 500 euro e lui si è così dileguato. Proprio dal figlio ha appreso che non esisteva alcun computer e che quindi era stata truffata. Cambiamo argomento. Ieri ho avviato il percorso concordato con i colleghi dell'intergruppo parlamentare sul testamento biologico, intervenendo in aula per chiedere che venga iscritta all'ordine del giorno la discussione sul fine vita. Il Parlamento non può astenersi dall'affrontare lucidamente temi complessi che toccano profondamente la sensibilità della nostra società. Per questo nel mio intervento ho voluto leggere alcuni passaggi dell'ultima lettera di Max Fanelli, afferma la senatrice PD Silvana Amati della Commissione Diritti Umani del Senato. Ascoltiamo. Senatrice Amati, prego. Grazie Presidente. Presidente e colleghi, riporto qua una parte di una dichiarazione di Max Fanelli. Comportarsi con indifferenza di fronte al dolore dei malati terminali e alle loro famiglie, alle decine di migliaia di persone che hanno sottoscritto il disegno di legge sul fine vita, non può essere considerata un'opzione, ma è un dovere. In queste situazioni, di fronte a così tante richieste, è compito dello Stato discutere e non ignorare. La prima e unica risposta di chi legifera deve vertere sul quando e non sul se. Noi tutti sappiamo che dal 1979 ad oggi sono state presentate 260 proposte di iniziativa popolare e poche di queste, tre, sono arrivate in fondo. Anzi, solo il 53% è arrivato in Commissione. Ora, io credo che sulla questione del fine vita ci voglia un riscontro di dignità da parte dell'Assemblea. Noi abbiamo proposte di legge del senatore Palermo, del senatore Manconi. Quella di Palermo riprende esattamente il disegno di iniziativa popolare. Io credo che da oggi tutti quelli che condividono questa necessità di dignità per chi come Fanelli è in condizioni assolutamente gravissime possano sollecitare l'Aula appunto a un riscontro forte perché si possa almeno iniziare a discutere. Grazie. Sono stati consegnati questa mattina i lavori sul fiume Misa nel tratto compreso tra Ponte Garibaldi e Ponte Zavatti. L'intervento realizzato dalla ditta 100 strade di Ostravetere che si è giudicata, il bando riguarda la rimozione dei depositi di materiale sedimentati, sì, con il passare del tempo e l'allargamento della sezione del fiume. I mezzi da lavoro arriveranno già proprio domattina in occasione dell'apertura del cantiere. Il Teatro Nuovo Melograno propone nel fine settimana uno dei classici più amati di sempre, La Spada nella Roccia, per la regia di Daniele Vocino. L'appuntamento è al Teatro di Via Botticelli venerdì 18, sabato 19 alle 21 e domenica 20 alle 17 e 30. Ancora un nuovo argomento, è nato solo pochi mesi fa e ha già fatto parlare di sé per gli importanti risultati che è riuscito a raggiungere. È a tutto sport il progetto di attività acquatiche e calcistiche rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità fisica e mentale nato grazie alla collaborazione tra il Servizio Sollievo e il Comitato WISP di Senigallia. Coinvolge oltre 20 ragazzi e ragazze e punta ad utilizzare lo sport come strumento per stimolare la ricerca di equilibrio psico, fisico e sociale. Il gratis club di Senigallia di Viale Bonopera si rinnova e cresce offrendo non solo appuntamenti musicali ma anche culturali e aggregativi. Il venerdì è dedicato completamente alla musica live, svariati generi, dall'indie rock al reggae, al rock e alla musica indipendente. Il sabato è sempre quel posto che da sempre si contraddistingue per la musica dance che passa dalla new disco all'ausa, alla disco alla techno. La domenica è dedicata a un mercatino che si chiama Aberdashery dove possono venire svariate persone anche locali a vendere le proprie cose, a mettersi in mostra per i nuovi progetti. Giovedì sono più legati all'arte, facciamo proiezioni, performance e tutto quello che concerne comunque un discorso artistico, videoarte compresa. Gli altri giorni della settimana sono dedicati ai corsi. Tra le novità spicca un laboratorio di pratica cinematografica in collaborazione con le officine Mattoli. Noi ci occupiamo principalmente di formazione cinematografica. Dal 2010 organizziamo questi corsi di alta formazione cinematografica su Tolentino coinvolgendo registi, attori, sceneggiatori un po' da tutta Italia, quindi professionisti del cinema indipendente italiano e in questa fase appunto stiamo sviluppando tutta una serie di altre iniziative legate alla produzione, per cui è nata una società di produzione affiancata al discorso formazione e di collaborazione con le sale cinematografiche. L'Officine Mattoli Primo Tempo è un laboratorio di pratica cinematografica rivolto ai ragazzi dai 16 ai 26 anni. Il laboratorio consiste in 18 incontri più un fine settimana dedicato alle riprese di un cortometraggio finale. Si divide in due parti, una prima parte consistente in il laboratorio dove i ragazzi fanno tutte le attività, quindi recitazione, sceneggiatura e videomaking. E una seconda parte in cui i ragazzi possono eseguire delle aspirazioni più specifiche, quindi approfondire solamente la recitazione o solamente la sceneggiatura e il videomaking. Le condizioni del tempo di giovedì 17 dicembre sulle marche, cielo, dissolvimenti, nottetempo e al mattino sino a divenire sereno o al più poco velato, assenti le precipitazioni, i venti latitanti sulle zone interne, deboli flussi nord-occidentali sulle coste, le temperature in crescita. Previsioni elaborate dal servizio agrometeo regionale dell'Assam. E' tutto l'appuntamento, come sapete, è per domani. Vi aspetto.